Luca, lo scopo dell'associazione LL Oltre l'Ostacolo non è solo quello di sensibilizzare alla disabilità, ma anche quello di raccogliere fondi. In mente avete una grande iniziativa, quella del 29 di giugno. Di che cosa si tratta? Il 29 giugno ci sarà un evento al Circolo Tennis Fano, un evento importante perché tutto il ricavato verrà devoluto all'Onfalos. L'Onfalos è l'associazione che aiuta i ragazzi malati di autismo. Sarà una serata molto molto particolare, ci saranno un sacco di novità, novità che interesseranno ovviamente la nostra associazione. Usciremo con un outfit, quindi con magliette, cappellini e polsini e soprattutto ci sarà tanto divertimento come avviene sempre nelle nostre serate. Quindi venite numerosi, potete chiamare il Circolo Tennis per la prenotazione oppure contattarci sui vari profili social, quindi sia su Instagram, su Luca Lepri Official, sia su Facebook, sul profilo Luca Lepri. Fino a quando è possibile iscriversi? Le iscrizioni si concludono il 26 giugno che è mercoledì, quindi ragazzi datevi una mossa e prenotate. E invece per il futuro che cosa prevede la vostra associazione? Allora per il futuro ci saranno un sacco di cose, un sacco di cose belle, interessanti, quindi restate con noi e vi aggiorneremo il prima possibile.